Le sensazioni in questo momento qua sono tutte sulla nostra situazione come squadra. Mancano 15 giorni, mancano due partite, quindi c'è poco tempo. Diciamo che negli ultimi mesi ho avuto tanto tempo per pensare alla mia situazione. Adesso c'è poco tempo per pensare alla mia situazione e si pensa più alla situazione generale che in questo momento qua per il bene di tutti è quella più importante. Io ho sempre saputo quello che potevo dare a questa squadra in generale in questi due anni e mezzo. Logicamente a volte sono stato messo in condizione di farlo, a volte no. Però comunque le mie sensazioni di cosa potevo dare e cosa posso dare sono sempre le stesse. Assolutamente non c'è nessuna voglia di rivincita o quello che sia sia. Noi ci siamo ritrovati a Coccaglio, credo che comunque quando la situazione era ed è ancora ad oggi quella che è tutti gli scontri che sono avvenuti vengono messi da parte per il bene di tutti. Noi ci siamo ritrovati a Coccaglio, abbiamo messo un po' da parte tutto per cercare di fare questo miracolo nelle ultime 4-5 partite. A crederci ci crediamo assolutamente, ci crediamo assolutamente, lo stiamo dimostrando. Logicamente siamo consapevoli che comunque mancano due partite, che la realtà può essere sia bella, però nello stesso tempo può essere anche brutta. Noi in questo momento qua pensiamo solamente a far sì che possa essere bella. Però assolutamente credo che lo stiamo dimostrando nelle ultime gare, che comunque a crederci ci crediamo assolutamente. L'obiettivo numero uno è quello di cercare di finire e finire bene. E finire con una salvezza che fino a qualche settimana fa, adesso qualcuno incomincia a sperarci, fino a qualche settimana fa ci davano per spacciati, non solamente qui a Palermo, penso in Italia in generale, cioè nelle televisioni, la stampa, i giornali, qualsiasi medio di comunicazione ci dava per morto, ci dava per spacciato. Adesso abbiamo un po' di speranza in più. E quindi noi ci crediamo e pensiamo solamente a finire bene. Poi a fine anno, quello che sicuramente, ripeto, il contratto mio qua finisce, quindi sicuramente non sarò più a Palermo, però il da farsi vediamo cosa sarà. Diciamo che sì, 36 anni e non posso dire di essere giovane. Logicamente Francesco ne ha 40, quindi sono quattro anni di differenza che sono abbastanza close, se non mi sbaglio ne ha 38-39. Quindi comunque stiamo parlando di ragazzi che hanno 3-4 anni in più. Però sì, credo che comunque, soprattutto quando le partite diventano fondamentali, quando c'è da prendersi le responsabilità e via dicendo, credo che comunque non solamente qui a Palermo, ma in generale, c'è sempre bisogno di gente che lo faccia. Sicuramente non mi sta sorprendendo quando l'abbiamo preso, credo proprio in questo posto qua, avevo detto che conoscevo Alberto da tantissimi anni, da perlomeno 15 anni e la virtù numero uno che ha è che è un pezzo di pane e che è un bravissimo ragazzo, al di là di essere un campione del mondo e un campione come giocatore. E credo che comunque quando una persona sia buona e cerchi sempre di apportare qualcosa, quello è sempre comunque positivo in qualsiasi professione. Alberto penso che non sta sorprendendo né me né voi, perché comunque lo conoscete da un punto di vista professionale che uno che li ha sempre fatti si viene messo in considerazione. Qui in un'annata dove comunque abbiamo avuto tanti problemi, è quasi arrivato in doppia cifra, 9-10 gol, 9 ne ha fatti, 9-10, 9 gol. Quindi 10 con la Coppa Italia. Sinceramente, sì, Domenica voleva pure quello che non era suo. Sinceramente a noi non ha sorpreso. E poi non so quante partite abbia fatto Alberto, sicuramente anche lui c'è stato un periodo che veniva utilizzato meno, però quello purtroppo fa parte del nostro mestiere. Una squadra che ha vinto come ha fatto l'Ester quest'anno, penso che né in Spagna né in Italia, è difficile trovarla, bisogna andare indietro di tanti anni. Sicuramente fa capire che la bellezza del calcio, che è uno sport che veramente non sai mai cosa possa succedere. Anche quando gioca la più forte contro quella, magari tra virgolette più scarsa, c'è sempre una possibilità. L'Ester ha dimostrato che non c'è niente di impossibile, che è tutto possibile. E veramente complimenti perché quando succedono queste cose, veramente a me è successo in piccolo, con il Siviglia, i primi anni che abbiamo vinto, che comunque non ci conosceva nessuno. È un valore doppio quando tu vinci con una squadra che magari nessuno si aspetta, quando vinci per esempio con la Juve o con altre squadre. Si fanno tanti calcoli, due punti, tre punti, noi dobbiamo avere in mente l'idea di fare sei punti. Questa è la realtà. Dobbiamo fare sei punti, adesso se riusciamo a farne sei, perfetto. Poi magari ne fai quattro, tre o zero, quello non lo sappiamo. Però sicuramente noi andiamo a Firenze con l'idea e con la convinzione che possiamo vincere e possiamo fare risultato. Anche perché comunque, se vogliamo avere ancora delle speranze, bisogna fare risultato e bisogna fare punti. Grazie. Grazie.